Una tragedia senza precedenti sulla vittoria Scoglitti, in pochi minuti perdono la vita 4 persone, 2 ferite, una bimba di soli 5 anni resta senza famiglia. Due ladre specializzate in furti con destrezza, vittoria per destare meno sospetti si facevano vedere con una bimba di 2 anni, in fine è stata proprio la piccola a tradire. A Modica c'è grande attesa all'interno del Consiglio Comunale per il piano di rientro quinquennale, se accettato dalla Corte dei Conti si potrebbe evitare il dissesto. Da un semplice controllo su strada in vista delle festività natalizie ad un arresto per droga scoperto un giovane ragusano che stava per vendere 65 spinelli. Band ospite stamani di Radio Tour per presentare lo spettacolo musicale Starway to Heaven, questa sera porteranno in scena Modica e Led Zeppelin. Buon pomeriggio, bentrovati con la prima edizione del telegiornale dalla redazione di Video 1. In apertura una tragica notizia di cronaca e di 4 morti e 2 feriti, il bilancio di un gravissimo incidente stradale avvenuto ieri sulla Vittoria. Vittoria Scoglitti, un'intera famiglia distrutta di padre, madre e figli, è rimasta in vita solo una bambina di appena 5 anni, ma i dettagli di quanto è accaduto nel servizio. Un'intera famiglia distrutta, una bambina di 5 anni rimasta sola, senza padre, madre e fratellino. Un'autentica tragedia sull'asfalto, quello della Vittoria Scoglitti dove ieri sera intorno alle 21, 6 persone sono rimaste coinvolte in un pauroso incidente stradale che ha provocato 4 morti e 2 feriti. In un primo momento si era parlato di due deceduti, ma subito dopo l'intervento dei vigili del fuoco e dell'ambulanza si era usciti a confermare con certezza che i morti erano il doppio. A perdere la vita, una famiglia composta da padre, Salvatore Scaccianoce, di 37 anni, madre, Paola San Pietro, di 29, e figlio, Giosef, di soli 8 anni, rimasta in vita con ferite varie e qualche trauma, la figlia di 5 anni, adesso ricoverata nella divisione di ortopedia dell'ospedale di Vittoria. La famiglia viaggiava a bordo di una lancia Ypsilon ed era diretta a Scoglitti. Al momento dell'impatto transitava su Contrada Anguilla, circa 2 chilometri dall'ingresso della frazione balneare vittoriese. Lo scontro, con un SUV BMW X5 proveniente dalla corsia opposta, è stato frontale e violentissimo. Sulla BMW c'erano Giorgio Cascino, di 27 anni, rimasto ferito alle gambe, e il passeggerio Valerio Di Pietro, di 24 anni, morto sul colpo. Cascino, conosciuto da Cate in quanto consigliere comunale, ha subito diverse fratture agli arti inferiori, ma si riprenderà in poche settimane ed è stato ricovedato all'ospedale di Ragusa. Secondo una prima ricostruzione, il SUV scuro sarebbe sbandato a causa della velocità elevata e avrebbe invaso la corsia opposta, finendo per scontrarsi con l'utilitaria. Il SUV, nello scontro, si è ribaltato. Il cofano, anteriore dell'utilitaria, è stato demolito nell'incidente. L'intero motore era fuori dalla carrozzeria. Ed ancora cronaca, la polizia di Vittoria ha preso due giovani ladre che avevano seminato il panico tra i commercianti della zona. In tre mesi, infatti, avevano commesso diversi furti con destrezza. Sentiamo. Due ragazze vittoriesi di 22 e 27 anni avevano seminato paura tra i commercianti della zona. Le due, Loredana Martinez e Angela Carvana, da giugno erano ricercate dalla polizia per vari furti con destrezza compiuti in diversi esercizi commerciali. In totale, in cinque negozi specializzati in bomboniere, articoli da regalo e biciotteria varia. Le giovani ladre, però, non prendevano di mira la merce all'interno del negozio, ma la borsa o gli affetti del titolare o delle commesse. Il modus operandi era sempre lo stesso ed in molte occasioni si facevano anche vedere per attirare meno sospetti con una bambina di due anni. Entravano nel negozio preso di mira e mentre una distraeva la commessa con domande generiche sugli articoli esposti in vetrina, l'altra metteva le mani sulla sua borsa. Negli ultimi mesi si sono accumulate sui tavoli del commissariato di polizia di Vittoria diversi fascicoli sulle varie denunce da parte dei commercianti raggirati. I poliziotti sono quasi immediatamente riusciti a risalire alla prima delle due ragazze che, tra l'altro, è risultata sposata con un pregiudicato con vari precedenti di polizia a suo carico per reati contro il patrimonio. La donna è stata immediatamente riconosciuta dalle proprie vittime mentre restava ancora da identificare la complice che spesso si faceva accompagnare dalla figlioletta di due anni. È stata proprio la bambina ad averla tradita nell'ultimo furto. La ladra ha infatti chiamato la figlia per nome e gli agenti sono quindi riusciti a stringere il cerchio a tutte le amiche della prima ladra, già individuata e con amiche con figlie piccole. Infine, le due ladre sono state ritenute responsabili di furti commessi dal 12 giugno al 25 settembre. Inoltre, dovranno anche rispondere di utilizzo illecito di carte bancomatte sottratte ad alcuni titolari di attività commerciali e subito dopo utilizzate per diversi perlievi. E a Ragusa invece la polizia ha arrestato un ragazzo di 27 anni pronto a smerciare 65 spinelli. L'uomo è stato bloccato quasi per caso durante un'attività di controllo intensificata in vista delle festività natalizie. Sentiamo. Preso quasi per caso dalla polizia, Guitano Catania, di 27 anni, nato a Ragusa, ora dovrà rispondere di detenzione di marijuana ai fini di spaccio e portodarmi e oggetti atti ad offendere. Alle 11 circa, durante un servizio di controllo del territorio, particolarmente intensificato negli ultimi giorni per le festività natalizie, gli operatori della squadra volanti hanno notato un giovane in via Terranova che alla vista degli agenti ha cambiato subito direzione allontanandosi dal loro sguardo. Riconosciuto in quanto pluripregiudicato, gli agenti hanno comunque proceduto al controllo per comprendere il suo atteggiamento. Sin da subito, il ragazzo si è mostrato particolarmente nervoso e il suo comportamento insolito. Sottoposto a perquisizione personale, è saltato fuori dalla tasca posteriore dei pantaloni un coltello con lama innerita perché utilizzata per confezionare in dosi sostanze stupefacenti. Visto come si presentava la lama del coltello, era molto probabile che in casa l'uomo potesse ritenere sostanza stupefacente, motivo per cui gli operatori, assistiti da un'altra volante, hanno esteso la perquisizione anche all'interno del suo appartamento. Occultata all'interno di un mobile del soggiorno, sono stati rinvenuti ben 24 grammi di marijuana, circa 65 spinelli e un bilancino di precisione. Inoltre è stato anche trovato un triterba, utilizzato da chi confeziona in dosi la sostanza prima della vendita. Considerato che la sostanza stupefacente sul mercato costa circa 350 euro, che si sarebbero potuti confezionare fino a 65 spinelli, che il giovane è disoccupato, e che è stato rinvenuto il bilancino di precisione, e che è stato anche rinvenuto il materiale per il confezionamento, e che Ghetano Catani è pluripregiudicato, quindi soggetto particolarmente pericoloso, è stato arrestato e associato presso la casa circondariale a disposizione dell'autorità giudiziaria di Ragusa. Lasciamo la cronaca per qualche secondo per parlare di politica. A Modica c'è grande attesa all'interno del Consiglio Comunale per il piano di rientro quinquennale. Si spera che lo strumento venga accettato dalla Corte dei Conti e per evitare così un dissesto che oggi appare sempre più vicino. La politica modica è di stretta attualità in questi giorni, in attesa di leggere il piano di rientro quinquennale che l'amministrazione presenterà a breve, nella speranza che venga accettato dalla Corte dei Conti ed evitare così un dissesto che oggi appare sempre più vicino. Stasera si riunirà il Consiglio Comunale. La civica assise al suono della campanella del Presidente Scarso riprenderà a discussione incardinata la scorsa seduta. Debiti fuori bilancio, interrogazioni e soprattutto il regolamento per la zona artigianale. Intanto sembra essersi sopita la polemica che nei giorni scorsi ha tenuto banco in città fra gli ex sindaco Ruta e Torchi, da un lato, e l'attuale primo cittadino dall'altro. Buscema aveva sostanzialmente rivendicato l'azione di risanamento della sua giunta, scaricando le responsabilità dell'odierna situazione finanziaria sulle precedenti amministrazioni da Torchi a ritroso. Nei Torchi, né tanto meno Ruta, hanno gradito tali esternazioni. L'ex sindaco Ruta, che cinque anni fa appoggia Buscema, oggi manifesta diverse perplessità sul suo operato e sulla crescita della città. Intanto proprio la città e i cittadini aspettano risposte per uscire dal guado della crisi. La squadra mobile di Comiso ieri ha arrestato durante i servizi di prevenzione dello spaccio di stupefacenti a Comiso. Dopo un breve inseguimento per le vie della città, un ventenne ucraino trovato in possesso di 15 grammi di marijuana suddivisa a dosi e pronta per lo spaccio. I dettagli nel servizio. Alla vista degli agenti della squadra mobile, ieri pomeriggio a Comiso, un ventenne di nazionalità ucraina a bordo del suo scooter accompagnato da un minorenne vittoriese ha improvvisamente cambiato strada. Destata l'attenzione degli agenti della mobile impegnati nelle operazioni di controllo e di prevenzione dello spaccio di sostanze stupefacenti, supportati da una locale volante del 113, si sono messi all'inseguimento dello scooter, riuscendo a bloccare poco dopo i due giovani. Perquisiti, il ventenne ucraino Voltya Aski Glib è stato trovato con addosso 5 stecche di marijuana per un totale di 15 grammi, suddivise in dosi e pronti allo spaccio. Da questa prima ricognizione, gli agenti hanno esteso la perquisizione all'abitazione dell'Ucraino, dove sono stati rinvenuti un bilancino di precisione del materiale utile al convenzionamento della stupefacente. Il ventenne è stato dunque sottoposto ai domiciliari secondo disposizione dello sostituto procuratore della Repubblica di Ragusa, Serena Menicucci. La Confcommercio Provinciale di Ragusa segnala che alcuni associati hanno ricevuto delle lettere da parte di un portale ditte e aziende italiane, che chiede come al solito di verificare la correttezza dei dati inseriti, minacciantone anche la cancellazione nel caso in cui questi non venissero confermati. Si consiglia anche in questo caso, afferma il direttore provinciale della Confcommercio, Emanuele Brugaletta, di ignorare le suddette comunicazioni che tendono solo a carpire una firma da parte dell'imprenditore, dopo la quale ci si trova obbligati a pagare 1.000 euro l'anno più IVA e a dover fare conti con la giustizia civile portoghese, perché, guarda a caso, conclude Brugaletta, questi signori hanno sede all'estero. I carabinieri di Acate hanno segnalato alla procura di Ragusa una coppia di coniugi di Acate tra i dipendenti comunali, sempre di Acate, per abusivismo edilizio ai primi e per il rilascio di concessioni edilizie non legittime. In secondi, sentiamo i dettagli. Abusivismo edilizio a carico di due coniugi acatesi. La coppia, a seguito di lunghe indagini eseguite dai carabinieri di Acate, è risultata rea di aver edificato in maniera abusiva un vano di 21 metri quadri senza l'ottenimento delle prescritte autorizzazioni, vano, tra l'altro, adiacente ad un immobile di 250 metri quadrati precedentemente fabbricato grazie ad illegittime concessioni edilizie rilasciate dal comune di Acate. Il terreno su cui sorge l'immobile è di tipo trazzerale ed è di proprietà dell'assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari, dunque i coniugi ne avrebbero così ricavato un ingiusto vantaggio patrimoniale. Inoltre, l'immobile risulta dal piano regolatore comunale edificato in una zona A, ovvero di interesse storico, ed in zona E, agricola, e con vincoli paesaggistici, il tutto con l'aggravante di trovarsi in un terreno caratterizzato dal rischio sismico. Oltre ai due coniugi, sono stati segnalati alla procura di Ragusa anche tre impiegati del comune di Acate, rei di aver rilasciato concessioni edilizie illegittime. La procura della Repubblica di Modica ha emesso il decreto che dispone il giudizio nei confronti della giovane cittadina cinese di 23 anni. La ragazza è imputata per il reato di pericolo di disastro ferroviario colposo, perché per colpa dovuta a imprudenza, imperizia, negligenza ed inosservanza delle norme di circolazione stradale, circolando nella via dell'Illa Sciclia la guida del furgone Fiat Ducato giunta al passaggio a livello ha omesso di rispettare il semaforo che indicava il rosso e le sbarre che si abbassavano. Ha imprudentemente proseguito la marcia e dopo aver impegnato parzialmente la sagoma ferroviaria ha anche fermato il furgone all'interno della sede ferroviaria tra le due barriere che nel frattempo si erano chiuse. Una manovra azzardata che solo per un puro caso non è costata la vita a lei e ai passeggeri del treno regionale proveniente dalla stazione di Scicli. Adesso vi lascio con un'intervista realizzata stamani all'interno di Radio Tour, il programma di Radio Mediterraneo, ad Andrea Iozzia dei Black Dog, una band modicana composta appunto da Andrea Iozzia, Corrado Cutrufo, Mirko Maccotta, Stefano Caruso e Maurizio Floridia. Ospiti stamani assieme all'attore Alessandro Romano di Radio Tour per presentare lo spettacolo musicale Stairway to Heaven che questa sera porteranno in scena per la prima volta a Modica Alta nella chiesa dei Santi Nicoloid Erasmo in onore della celebre band rock inglese dei Led Zeppelin. Sentiamo i loro interventi a Radio Mediterraneo. C'è questo evento musicale definito da non perdere, questo tributo al gruppo Led Zeppelin. Ne vogliamo parlare a Stairway to Heaven, si chiama così? Esattamente. Ce l'ho raccontato un po'? Stairway to Heaven ovviamente è una delle canzoni simbolo della storia della musica rock mondiale e nonché una delle canzoni di punta del gruppo dei Led Zeppelin. Tu hai anticipato l'apertura di questa trasmissione oggi con un brano All My Love di Led Zeppelin anche se là siamo ormai all'ultima parte della loro carriera quindi avevano un po' snaturalizzato i loro sound però sono molto più rock, più hard rock. Le Zeppelin sono un gruppo che hanno influenzato tutti i successivi gruppi rock ed heavy metal sono stati i primi a cambiare un po' il genere musicale che si suonava negli anni 70. Si è passati dal beat, dai Beatles che sono stati ovviamente i precursori, hanno aperto la strada appunto ai Led Zeppelin che hanno improvvisamente sono stati come un fulmine del panorama musicale internazionale e noi vogliamo omaggiarli anche grazie a questo meraviglioso e incredibile gruppo dei Black Dog che io ho conosciuto, noi ci conosciamo da diverso tempo. Il Black Dog nasce come un progetto studio su tutto solo ed esclusivamente sulla musica delle Zeppelin Voi fate solo musica delle Zeppelin? Sì, solamente, è un progetto cover band per lo più studio sulla musica delle Zeppelin Un progetto nato tempo fa? Quanto tempo è nato? Da quasi due anni È due anni che siamo in sala prova e non abbiamo quasi mai fatto live in giro Siete in cinque mi pare Siete in cinque? Siamo in cinque, sì Ah, non avete mai fatto ancora live? No, ancora live no proprio per una nostra scelta di stare in studio di... Perfezionare il sound Perfezionare il sound Prepararvi bene E' anche giusto A volte si va allo sbando così allo sbaraglio come i dilettanti e meglio le cose preparate bene Infatti appena ho ascoltato sono rimasto folgorato proprio per la qualità Non quanto le Zeppelin No, la qualità veramente di riproduzione dei particolari perché non è facile suonare le Zeppelin sia da un punto di vista tecnico che da un punto di vista acustico loro utilizzavano tecniche particolari anche per registrare Certo E poi Jimmy Page che è uno dei più grandi chitarristi della storia della musica usava anche lui delle tecniche particolari infatti loro sono in cinque i Le Zeppelin erano in quattro Page faceva continue sovraingisioni in studio per aumentare la chitarra e quindi sono rimasto incredibilmente colpito dalla loro bravura mi hanno proposto di fare questo spettacolo ed è nato E quindi dopo due anni avete deciso di mettere su un punto questo evento musicale musicale e teatrale tra l'altro musicale e teatrale Stasera ho sentito prima Andrea che diceva è tutto esaurito A quanto pare sì non ci aspettavamo questa richiesta a quanto pare gli anni 70 piacciono e ho fatto saltare qualcosa Gli anni 70 piacciono e attirano e in questi tempi forse uno sguardo al passato ci è d'aiuto grazie a tutti